Salve e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere quelle che sono le nuove funzionalità di Google Meet che da marzo a novembre è cambiato tantissimo. Andiamo a vederle insieme. Eccoci qui, benvenuti. Come vedete sono su una classe di prova e all'interno della classe abbiamo il famoso link da Classroom di Meet che ormai tutti conosciamo e su questo link bisogna subito dire qualche cosina. Se il vostro amministratore della G Suite ha operato in modo consono a quelle che sono le assegnazioni degli insegnanti all'interno della G Suite e quelle che sono gli alunni, ovviamente nessun alunno potrà entrare su questo link se prima non è entrato un docente. Se avviene invece l'inverso, che quindi gli alunni possono entrare su questo link anche senza che ci sia un docente all'interno, contattate il vostro amministratore perché qui c'è bisogno di intervenire. Ma adesso andiamo a vedere subito come è cambiato Google Meet e come è cambiato, come facciamo a renderci conto per prima cosa che siamo noi i possessori di quella stanza di Meet. Io ora entro sul link e andiamo a vedere insieme. La prima novità che potete subito vedere è letteralmente la sfocatura dello sfondo, quella che avete qui in basso è un'opzione molto importante per quanto riguarda la privacy. Ovviamente vedete che è già attivata di default, potete disattivarla senza nessun problema. Partecipando a questa stanza di Meet ci rendiamo conto subito che siamo i proprietari del link di Meet per un motivo molto semplice, per quello che è il lucchetto che è qui in basso, il controllo dell'organizzatore. Se non c'è questo lucchetto non siete voi i controllori della stanza di Meet, qualcosa non va. Per quanto riguarda questo tipo di link generato su Plaston, bisogna stare attenti anche a un'altra cosa, che sia l'ultimo ad uscire da questa stanza sia il docente, perché se non è il docente, automaticamente l'ultimo che rimane diventa proprietario di questa stanza e quindi se ci sono delle video lezioni programmate un'ora prima, un'ora dopo, consecutive, il docente che abbandona la stanza, lasciando dentro gli alunni, automaticamente li rende proprietari di questa stanza. Quindi questo va evitato. Meglio uscire come docente per ultimo, magari cinque minuti prima che finisca la lezione, fare in modo che tutti gli allievi siano usciti e poi far entrare un altro docente. Vedete che è cambiata soprattutto anche quella che è la colorazione del nuovo Meet e abbiamo un'icona in più. Abbiamo quella della chiamata che può essere abbandonata, abbiamo quella della videocamera, quella dell'audio e soprattutto abbiamo quella finalmente, per molti, quella dell'altoparlante. Che cos'è questa funzione? È molto importante. Tantissimi hanno chiesto sui social in giro come mai quando presento un video da YouTube o un video qualsiasi i miei alunni non sentono l'audio perché bisognava andare nelle impostazioni e impostare l'audio degli altoparlanti. Bene, ora è già impostato di default, anzi se non lo volete bisogna disattivarlo direttamente da questa barra. Che cosa sono i controlli dell'organizzatore? Nei video precedenti il controllo dell'organizzatore era molto importante anche per quanto riguarda i colloqui perché qui con questi controlli possiamo mettere in coda i genitori, quindi evitare che se qualcuno di noi sta parlando con un genitore possa introdursi un altro inaspettatamente. Come fare? Lo vediamo subito insieme. Ed eccoci qui. Allora andiamo subito ad aprire questo lucchettino qui in basso sulla sinistra e vedete che vi si apre una schermata. Queste impostazioni le possiamo guardare anche da un'altra parte che io trovo forse più comoda a livello di visibilità e magari anche di comprensione ma potrebbe essere semplicemente il mio problema. Per questo mi sposto da qui a quelle che sono le impostazioni. Nelle impostazioni bisognerà ovviamente andare qui in basso e vi aprirà quella che è la schermata del controllo dell'audio, controllo del video e controllo dell'organizzatore. Proprio questo controllo dell'organizzatore vi dà accesso rapido e quindi quando l'impostazione è disattivata solo voi potete autorizzare l'accesso di qualcuno alla vostra stanza di Meet. Quindi nel momento dei colloqui se volete usare il link di classe per fare i colloqui, entrate prima dei vostri alunni o genitori che entrano con la mail dei alunni e sarete voi a permettere l'accesso solo tramite accetta l'invitato. Quindi a questo punto se il genitore vuole entrare prima o avete avuto un colloquio che ha sporato di un minuto o due quello che era prestabilito, l'altro genitore può essere messo in attesa semplicemente rifiutando il suo ingresso momentaneamente. Trovo che sia fondamentale come opzione, così come si può rimuovere la condivisione dello schermo ai partecipanti del Meet, evitare quindi che gli allievi durante una lezione facciano partire delle condivisioni inappropriate, oppure addirittura di staccare la chat se c'è qualche motivo, qualche dissido tra gli alunni che prende una cattiva piega, potete disattivare la chat a tutti i partecipanti e quindi solo voi potete avere il controllo della chat. Ecco, se voi non avete queste impostazioni né sul lucchetto in basso qui e né nelle impostazioni generali dei Meet, non siete, gli organizzatori del Meet, non state controllando quindi il Meet e la stanza. Continuiamo con quello che è il nostro viaggio all'interno delle funzionalità nuove di Meet e andando in basso sui tre puntini potete vedere che vi si apre sempre il menu e tra le nuove funzionalità abbiamo il modifica layout che vi permette di mettere in griglia i partecipanti da 6 a 49 senza più bisogno dell'estensione di GridView. Quindi assolutamente vi si installate questa estensione e potrete avere fino a 49 partecipanti all'interno delle vostre Meet senza bisogno di altri componenti. Poi tra le varie novità abbiamo detto dello sfondo sfocato, come si può vedere non ho gli sfondi ancora attivati che cambiano lo sfondo alle nostre spalle, ma soprattutto abbiamo la Jamboard. La Jamboard è la lavagna digitale di Google, adesso io ne ho aperta una, ho inserito un mio alunno all'interno dell'altra classe, adesso vediamo come funziona questa Jamboard. In pratica nel momento in cui voi aprirete il file di Jamboard vi si aprirà una nuova finestra con una Jamboard vuota all'interno della quale potete mettere quello che dovete, anche delle note. E queste note nel momento che voi la scriverete comparirà anche sulla Jamboard che i vostri alunni stanno guardando. Non la stanno guardando però come schermo di presentazione, la stanno guardando su un altro link perché nel momento in cui aprirete la vostra Jamboard agli alunni comparirà in chat qui il link della Jamboard da guardare. Quindi se io ci clicco sopra come studente vedete che mi si apre la Jamboard e ora vedremo che dovrebbe comparire la Jamboard con il post-it che abbiamo appena messo. Quindi se torniamo dalla parte del docente e intanto vedete chi è dentro la Jamboard, quindi potete vedere anche se ci sono tutti gli alunni e se questo io vado a spostarlo e a modificarlo altrettanto avverrà nella schermata, vedete, dell'alunno. Quindi di queste funzionalità possiamo farne veramente e vedete un buon eccare di oggi.